La foto di Nancy e dei suoi quattro gemelli era straordinaria, ma quando Michelle è ingrandito durante la fase di editing, ha visto qualcosa di molto inquietante che ha cambiato la sua vita per sempre. Michelle portava la pesante borsa con tutto l'equipaggiamento fotografico sul lussoreggente preto del parco dove lei e Nancy avevano concordato di fare l'ultima sessione fotografica. Aveva avuto il privilegio di fare una sessione fotografica circa un anno prima con la sua stessa famiglia. Da quel giorno era stata invitata a feste di compleanno e occasioni speciali con questa famiglia, poiché era chiaro che Nancy amava il lavoro che stava facendo. C'era una forte somiglianza tra Nancy e le sue figlie, e naturalmente le quattro gemelle sembravano quasi identiche. Michelle faceva fatica a distinguere le ragazze, quindi ad ogni sessione fotografica Nancy aggiungeva una differenza sottile ai capelli di ciascuna ragazza per facilitare la comunicazione della fotografa con le sue modelle. Cassidy ed Elaine adoravano la fotocamera, mentre Diane e Ruth erano un po' più timide. Michelle prenotava sempre molto tempo per le sessioni fotografiche con i bambini, e ancor di più quando le modelle erano le quattro gemelle. Lei sapeva benissimo che le ragazze dovevano fidarsi di lei e godersi il tempo, altrimenti far sorridere tutte e quattro le ragazze contemporaneamente poteva diventare un compito impossibile. Le singole sessioni erano molto divertenti, poiché Michelle cercava di catturare la personalità di ogni ragazza. Poi scattava alcune foto casuali delle quattro gemelle abbinandole a caso. C'era ampio spazio per far molte foto spontanee e informali di loro che giocavano nel parco, e la sessione fotografica stava procedendo perfettamente. Infine, arrivò il momento per l'ambientazione più formale in cui la mamma, Nancy, veniva fotografata con le ragazze. Michelle cercava di catturare la profondità della cura di questa madre per le sue ragazze, così come il profondo legame che aveva instaurato con ognuna di loro. Per l'ultima serie di scatti, le ragazze indossavano vestiti floreali per portare l'atmosfera estiva della giornata. Nancy accettò di indossare un vestito azzurro leggero per completare le sue figlie. Ma anche per assicurarsi di risaltare un po'. Michelle sapeva istintivamente che questi ultimi outfit avrebbero creato immagini sbalorditive di queste cinque bellissime donne, con i loro capelli ricci e biondi e i sorrisi abbinati. Alla fine della giornata, Nancy informò a Michelle che c'era un evento di raccolta fondi nella scuola locale delle ragazze il mese successivo. Uno dei modi in cui la scuola raccoglieva fondi era chiedere a ogni famiglia di inviare una foto e quindi scrivere un breve saggio sulla benedizione di essere una famiglia. Voleva utilizzare una di queste foto con la loro presentazione, quindi aveva fretta di ottenere le stampe. Michelle le disse che avrebbe fatto del suo meglio e si apprettò a casa per modificare le foto. La prima sessione fotografica che Michelle fece per la famiglia Thompson fu un'occasione dell'ultimo minuto per una collega che improvvisamente si ammalò e le chiese un aiuto. Inizialmente Michelle era attitubante a fare la sessione fotografica, ma non poteva dire di no alla sua amica. L'incertezza derivava dal fatto che preferiva fare fotografie in studio formali, mentre questa sessione era prenotata in un ambiente esterno. Michelle temeva che avrebbe combinato qualcosa con l'illuminazione e l'esposizione e che la sua reputazione come fotografa emergente sarebbe stata distrutta. Non c'era tempo per leggere o prepararsi e, oltre a tutto ciò, era una giornata fredda e ventosa. Con la mamma e le ragazze tutte con i capelli lunghi, temeva che non avrebbe ottenuto degli scatti perfetti di tutta la famiglia. Per sua grande sorpresa, Michelle si divertì molto di più durante la sessione fotografica all'aperto di quanto avesse mai previsto. Inoltre, lei e Nancy andarono molto d'accordo. Nancy era piuttosto facile da dirigere e il suo approccio rilassato alla fotografia fece immediatamente rilassare Michelle. Quando finì di modificare le foto, non poteva quasi credere a quanto fossero sorprendenti i risultati. Con il debole sole invernale, alcune delle foto avevano un'esposizione minima di luce, ma il sole al tramonto dipinse il cielo in un'ampia gamma di colori autunnali. Spettacolare, descriveva al meglio il risultato finale. Quando Michelle informò Nancy che le stampe della loro prima sessione fotografica erano pronte, circa una settimana dopo, Nancy la invitò per un pranzo informale quando le consegnò le stampe. Era strano per Michelle essere ammessa nella vita di un cliente, ma non appena entrò nel soggiorno si rese conto che si sentiva quasi a casa. La casa era accogliente e le pareti erano piene delle foto delle ragazze, di Nancy e di suo marito Jeff. Le due donne divennero subito amiche e da quel momento in poi Nancy chiamò sempre Michelle per fare le sessioni fotografiche. Quindi eccola qui, mentre faceva il secondo servizio fotografico per la sua amica. Amica perché nel tempo Michelle e Nancy erano diventate più che semplici conoscenti. Anche se non si vedevano così spesso, quando si incontravano per un breve caffè, condividevano alcuni dei loro segreti più profondi. Michelle apprese che Nancy era cresciuta senza un padre per i primi sette anni della sua vita. Per questo motivo era così protettiva nei confronti delle figlie. Fortunatamente sua madre incontrò un uomo quando Nancy aveva circa sei anni e divenne il padre che non aveva mai avuto. Il patrigno colmò un grande vuoto nella sua vita e per la prima volta notò che sua madre era davvero felice. Ma i sette anni prima che sua madre si sposasse erano stati difficili. C'era appena abbastanza per arrivare a fine mese, ma sua madre la sosteneva con un amore incondizionato. Nancy e sua madre erano estremamente vicine e lo erano rimaste fino ad oggi. Nancy condivise con Michelle che aspirava ad avere un rapporto altrettanto forte con le sue ragazze. Le quattro gemelle sono note per condividere un legame molto forte l'una con l'altra. Nancy confessò che alcuni giorni era un po' gelosa delle ragazze, poiché lei era stata figlia unica. Michelle impiegò un po' più di tempo per aprirsi, ma disse a Nancy che aveva una madre meravigliosa che era morta quasi due anni prima. Anche se amava suo padre, avevano sempre faticato a sviluppare un legame stretto. Suo padre era sempre impegnato con il lavoro e in viaggio. Dopo la morte di sua madre, cercò di trascorrere più tempo con lui, ma il loro rapporto rimase un po' teso. Michelle non riuscì mai a capire del tutto, ma aveva sempre avuto una sensazione che suo padre fosse uno sconosciuto, come se avesse avuto una vita completamente diversa che lei e sua madre non avevano mai condiviso e che fossero collegati quasi solo dal loro DNA condiviso. Il giorno stava sorgendo e Michelle promise di dare priorità all'editing delle fotografie della famiglia Thompson. Aveva pianificato di iniziare non appena fosse arrivata a casa, ma dopo una giornata estenuante al sole, si addormentò sul divano pochi minuti dopo essere tornata a casa. La mattina seguente era entusiasta di iniziare a modificare le stampe. Si sentiva privilegiata di lavorare su un progetto così bello e non vedeva l'ora di consegnare il prodotto finito a Nancy. Parte della soddisfazione del suo lavoro era vedere quanto fosse felice un cliente quando gli consegnava la foto. A volte quasi si sentiva in colpa per essere pagata per qualcosa che poi in fondo le piaceva così tanto. Michelle scaricò le foto sul computer. A stento poteva credere di aver scattato quasi 500 foto della famiglia. Avrebbe impiegato un po' di tempo per selezionare le migliori foto, poiché aveva promesso a Nancy solo 50 scatti. Ciò che rendeva il compito ancora più difficile era che tutte le ragazze e la loro mamma erano molto fotogeniche e c'era a malapena una foto che non valesse la pena di salvare. Alcuni dei migliori scatti erano quelli con i vestiti floreali e la mamma vestita di blu. Michelle le aveva fatte girare tutte intorno e aveva catturato momenti preziosi dei loro capelli che prendevano la luce e giravano intorno alle loro teste. Era un compito difficile limitare le foto alle migliori 50. Alla fine, con le migliori 50 selezionate, Michelle fece alcune correzioni su illuminazioni e ombre. Ma tutto sommato il suo lavoro era quasi fatto. Avrebbe completato il compito entro la fine della giornata e poi avrebbe fissato un appuntamento con Nancy per consegnare le stampe. Le due dovevano recuperare un po' di tempo perso e questa sarebbe stata l'occasione perfetta. Michelle stava facendo l'ultimo scroll attraverso le foto quando notò uno sconosciuto sullo sfondo di una delle immagini. Ingrandì per confermare il suo sospetto e meditò se dovesse selezionare un'altra foto o usare i suoi strumenti di editing per eliminare lo sconosciuto, quando il suo occhio notò qualcosa sulla spalla destra di Nancy. Per un attimo, Michelle pensò che i suoi occhi la stessero ingannando. Michelle sapeva di dover procedere con cautela. Stava lavorando con la vita e il cuore delle persone. Se il suo sospetto fosse stato sbagliato, avrebbe potuto rovinare molte vite. Prima di parlare con Nancy, doveva prima parlare con suo padre. Senza esitazione, Michelle salì in macchina e si diresse verso il palazzo dove suo padre viveva da circa un anno o giù di lì. Il colpo urgente alla porta del suo appartamento spaventò il padre di Michelle. «C'è qualcosa che non va», chiese con gli occhi spalancati quando vede sua figlia lì senza preavviso. Michelle non aveva intenzione di girarci attorno. «Papà, ho bisogno che tu sia brutalmente onesto con me adesso. Ho una sorella maggiore». L'anziano la guardò con gli occhi sbarrati e rimase senza parole per un attimo, ma poi chiese con calma «Come l'hai scoperto?». Michelle impiegò qualche secondo per elaborare quello che suo padre aveva appena confermato, ma poi si rese conto che doveva mettere tutto in chiaro. «Ho incontrato una donna circa un anno fa mentre facevo un servizio fotografico per una famiglia. Ieri ho fatto un altro servizio per la mamma e le sue ragazze e oggi stavo modificando le foto. È lì che ho visto il piccolo neo a forma di cuore sulla spalla. È identico a quello che ho io e quello che hai tu. Ho pensato fosse troppo strano per essere solo una coincidenza. Questa donna vive vicino». La calma di suo padre fu quasi ciò che la colpì di più. Quel pomeriggio Michelle apprese che suo padre era stato innamorato di un'altra donna prima di incontrare sua madre. La relazione era stata burrascosa e lui la lasciò per trasferirsi dall'altra parte della città, dove sposò la madre di Michelle. Sei anni dopo incontrò per caso la sua ex ragazza e scoprì che aveva una bambina che gli assomigliava molto. Quando la avvicinò per chiedere se la bambina potesse essere sua figlia, lei gli chiese gentilmente di tenersi alla larga. Aveva già conosciuto un altro uomo e voleva che sua figlia crescesse con un padre senza doverlo condividere. Il fatto che suo padre conoscesse il nome di Nancy fu una conferma sufficiente, ma Michelle sapeva di dover condividere ciò che aveva scoperto con lei. Se le informazioni fossero state accurate, questo avrebbe significato che Nancy poteva effettivamente essere sua sorella. Questo spiegava perché c'era questo legame quasi naturale tra lei e Nancy. Michelle fissò un appuntamento speciale con Nancy e poiché stava aspettando le foto, non era sospettosa o nervosa quando Michelle le chiese di incontrarla per un caffè. In uno scambio emotivo di informazioni, le due donne scoprirono che probabilmente condividevano lo stesso padre. Quando Michelle mostrò a Nancy il suo neo a forma di cuore, non fu necessario fare un test del DNA. Le due donne sapevano istintivamente di essere sorelle. Un incontro quasi casuale permise a due sorelle che non sapevano nemmeno dell'esistenza l'una dell'altra, di diventare le più grandi amiche. In un istante, Michelle divenne la zia di Cassidy e lei, Diane e Ruth. Nancy non aveva ancora deciso se voleva incontrare suo padre biologico, ma era certa di voler conoscere meglio sua sorella. Le due donne incredibili si sentirono fortunate di essersi ritrovate e da quel giorno in poi divennero ancora più vicine. Che colpo di scena! Pensate che il padre di Michelle meriti una seconda possibilità incontrando sua figlia e diventando addirittura nonno? Ditecelo nei commenti qua sotto. Grazie per aver guardato e ci vediamo alla prossima! Ciao! Ciao! Ciao!